Il derby salentino è la sfida tra l'outsider e la favorita. Archiviata la stagione regolare ed in attesa della composizione dei play-out, per il campionato di eccellenza pugliese è arrivata l'ora dei play-off, con in campo domenica alle 16.30 Gallipoli-Casarano-Avetrana e Domnia-Bitonto. Il primo atto di un percorso che, seppur lungo e difficile, può portare alla Serie D, presenta sfidi affascinanti e sulla carta molto equilibrate. Al Capozza scenderanno in campo le formazioni di Sportillo e Villa per dar vita ad un derby salentino caldo ed incerto. I padroni di casa, che potranno naturalmente contare su due risultati su tre per accedere alla finale, arrivano a questo match dopo una stagione altalenante che comunque le ha condotte la seconda piazza e si ritroveranno davanti una compagine, quella giallorossa, protagonista per larghi tratti di un campionato di vertice caratterizzato da un'ottima qualità di gioco, ma colpita nel finale da una flessione che l'ha portata in quinta posizione con i play-off conquistati addirittura all'ultima giornata con il successo sulla vetrana. Proprio la vetrana, al Celestino La Serra, sarà protagonista del match tra l'outsider e la favorita. La squadra di Branà, con il suo terzo posto in classifica, ha coronato una stagione giocata oltre ogni più rosa e aspettativa ed avrà la possibilità di giocarsi le sue carte sul terreno amico contro una formazione, l'Omnia Vitonto, che, dopo essere partita con i favori del pronostico per la vittoria del campionato, ha pagato lo scotto dell'inesperienza, salvo poi compiere una grande rimonta nel gelone di ritorno che l'ha condotta fino agli spareggi, che andrà a giocare, pur partendo dal quarto posto, con il ruolo di candidata numero uno per la vittoria finale.